Nel carcere di Sulmona, ennesimo episodio danni dei poliziotti penitenziari che sono stati aggrediti da un detenuto al quale avevano sequestrato telefoni cellulari. La funzione pubblica CGL insiste sulla necessità di più misure preventive, ormai gli episodi sono quasi all'ordine del giorno. Gli agenti coinvolti in questo sono stati cinque e finiti in ospedale dopo l'aggressione. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, il detenuto durante un controllo sarebbe stato sorpreso con dei cellulari, avrebbe dato in escandescenza colpendo gli agenti. I sindacati sono seriamente preoccupati per quanto accaduto perché gli istituti penitenziari, i baluardi di legalità, dovrebbero garantire la sicurezza di lavoratori e lavoratrici che invece sono quotidianamente esposti a rischi. L'introduzione fraudulenta poi di strumenti non consentiti compromettono inevitabilmente l'ordine e la sicurezza delle carceri e della collettività tutta. Anche il presidente della regione Marco Marsiglio è intervenuto ritenendo il fatto molto grave e ha già fatto sapere di voler contattare subito il nuovo ministro affinché siano coperti i posti in organico, ad oggi scoperti, per garantire maggiore sicurezza durante i turni di lavoro. Il grave evento critico che si è registrato alla casa reclusione di Sulmona impone ancora una volta alla politica e alle istituzioni di avviare una serie di riflessioni a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, sia della polizia penitenziaria che delle funzioni centrali. Serve un cambio di passo, subito, con delle misure preventive, con assunzioni e con della formazione, nonché con un rafforzamento dell'esecuzione penale esterna. Non possiamo più accettare che il personale sia esposto a dei rischi così notevoli e così preoccupanti. Ora basta, come organizzazione sindacale abbiamo rivendicato più volte la necessità di mettere proprio in campo delle misure necessarie e delle misure serie. Non è più tempo di attesa.